Ciao a tutti, il primo novembre allo Stadio di Carvi ci sarà, assieme al sottoscritto tutta la Nazionale Cantanti, Pippo Inzaghi, Bobo Vieri, Marco Del Vecchio, Giorgio Parariello, Checco Zalone, Checco dei Modà, insomma vi aspettiamo perché sarà una festa straordinaria assieme ai Nazionali Cantanti, Teniamo Botta, Radio Bruno, tutta la nostra gente. Grazie a tutti.